Mi fa piacere i complimenti del mister, come ho detto prima sto meglio, mi sento meglio in allenamenti, con la squadra, i meccanismi, tutto. Quindi non sono ancora al massimo, però sto crescendo e spero di continuare così. Io l'anno scorso ho fatto tutti i ruoli quasi al centrocampo e anche quest'anno il mister mi ha fatto col primo tempo trequartista, poi a metà del secondo tempo mi ha fatto abbassare al posto di Inde, io non ho preferenze, sto bene in tutti i due ruoli, ovviamente sono due ruoli diversi, uno dove attacchi di più, l'altro dove devi difendere di più, però a me piacciono tutti i due ruoli. Questo non tocca a me a dirlo, io vedo cosa decide il mister, se lui dice che ha bisogno di me, devo stare qua da gennaio in poi, io sono a disposizione, se mi diranno che dovrei andare via a giocare l'accetto e tutte le due decisioni prendo con molta serenità, senza nessun problema. No, è ovvio che le prime due partite non sono state positive, però un po' ci stava, penso perché non avendo fatto il ritiro, fatto i giochi olimpici, ne ero appena arrivato con la squadra, quindi era difficile, le due prime prestazioni erano negative, c'era un po' di scetticismo, però spero che oggi ho convinto un po' di più, anche se penso che posso fare molto di più.